Siediti a gambe incrociate e unisci pollici e indici tra di loro. Chiudi gli occhi e inizi a sentire che la schiena è ben dritta. Comincia ad ascoltare il tuo respiro senza forzarlo. Senti l'aria che entra e esce dalle narici. Senti che arriva nei polmoni e che nutre tutto il tuo corpo. Inizia a rilassare pian pianino tutto il tuo corpo. Porta l'attenzione in mezzo alle sopracciglia. E per entrare ancora più in profondità inizia questa respirazione. Ispira profondamente dal naso. 1, 2, 3, 4. Trattini l'aria. 1, 2, 3, 4. Ispira dal naso. 1, 2, 3, 4. Pausa polmoni vuoti. 1, 2, 3, 4. E prosegui in questo modo, adattando il ritmo della respirazione alle tue esigenze. E prosegui in questo modo, adattando il ritmo della respirazione alle tue esigenze. Gradualmente inizia ad avere più consapevolezza del tuo corpo. di come è posizionato del suo peso. rispira ancora per qualche volta in questo modo. rispira ancora per qualche volta in tutto il nostro sost titolo. a Grazie a tutti. E quando è terminato, riprendi a respirare in maniera naturale. E a ritmo del tuo respiro, inizia a ripetere mentalmente questo mantra. Inspirando dici sa, espirando ta, inspirando na, espirando ma. Inspira sa, espira ta, inspira na, espira ma. Continua a ripetere mentalmente questo mantra a ritmo del tuo respiro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mantieni l'attenzione al centro delle sopracciglia e continua a ripetere il mantra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti